per ringraziare l'amico Giovanni che ha creato questo campo dal nulla, non c'era assolutamente nulla neanche un anno fa e è riuscito a portare tanti amici, tante persone che sono appassionate di armi, ma non soltanto appassionate di armi, sono amici che si trovano qua. Devo anche ringraziare Giovanni per aver fatto questo primo trofeo Amici del Tricolore perché io faccio parte dell'associazione Amici del Tricolore e quindi diciamo che ha creato questa simbiosi tra noi e dell'associazione e loro dell'associazione Shooting Range. Semplicemente un essere insieme come ho detto prima, non è niente di speciale, però è importante perché è una maniera di restare uniti con le forze armate di cui qua ci sono molti rappresentanti, anche il sottoscritto fino a pochi mesi fa portava la divisa, adesso purtroppo per vecchiaia la divisa l'abbiamo lasciata attaccata alla stampella.